Simone Tomassini, possiamo dire un gol che se ci fosse varrebbe sei punti? No, purtroppo ne vale solo tre, però sì, la soddisfazione sicuramente è molto grande, soprattutto per come è arrivata la vittoria in 10 contro 11, penso dal ventesimo, non so, del primo tempo, contro una squadra come il Cesena, è stata una grande soddisfazione che ci siamo tolti tutti quanti insieme. I progressi della squadra sono sotto gli occhi di tutti, tranne poi mancare forse un po' di continuità, mi riferisco alla partita di mercoledì. Sicuramente mercoledì abbiamo incontrato anche una gran bella squadra, è molto organizzata, in casa loro che comunque è un campo grande, loro giocano molto bene il pallone e nel turno infrasettimanale che comunque sia anche a livello di energia toglie tanto, quindi più che demerito nostro è stato anche molto merito loro. Devo dire, sicuramente a noi è mancato qualcosa, lucidità, un po' di organizzazione in quella partita, però abbiamo affrontato bene questa e è andata bene. Soprattutto nei primi 20 minuti sì, stavamo giocando molto molto bene, la squadra girava e dopodiché sono saltati tutti gli schemi perché con l'espulsione loro hanno iniziato a spingere forte e abbiamo dovuto giocare su quelle che si chiamano le palle sporche perché loro stavano molto alti, ci avevano un po' chiuso ma siamo stati bravi a trovare l'episodio del gol e a rialzare la testa e a soffrire fino alla fine, quindi bene così. Queste sono anche partite che ci vuole poco a prepararle perché quando giochino il Cesena arrivano le motivazioni, arriva la voglia, arriva tutto quanto. Sarà sicuramente forse più difficile interpretare la partita di domenica, però la mentalità c'è, in queste ultime partite abbiamo fatto molte cose fatte bene, altre dovremo migliorarle perché sicuramente il potenziale della squadra è molto importante e se riuscissimo a svilupparlo al 100% sicuramente potremmo toglierci grandi soddisfazioni.